Per i ViraSport siamo con mister Enrico Sardo, mister una bellissima vittoria 5 a 1, una prova di forza da parte vostra. Sì, ma è un periodo che stiamo bene, l'abbiamo dimostrato in settimana nel recupero a Cairo, abbiamo confermato oggi, sappiamo benissimo che non ci possiamo concedere cali di tensione, diciamo che la squadra ha risposto comunque benissimo alle mie sollecitazioni dell'ultimo mese, dell'ultimo mese e mezzo dove secondo me gli ho detto che potevamo recuperare qualcosa e puntare al massimo, perché comunque sia questa squadra dall'inizio che non si nasconde e vogliamo sempre puntare al massimo, quindi continuiamo a guardare in alto, continuiamo a tenere testa bassa in allenamento alla domenica e fra un mese si vedrà dove saremo. Ecco, la veloce oggi ha perso guardando i risultati delle altre, 4 giornate alla fine, un rush finale, tutto da vivere. Sì, campionato bello perché l'anno scorso quest'ora era già chiuso, anzi molto prima era già chiuso quest'anno, invece ci sono 4-5 squadre che se lo giocheranno fino alla fine, io sono convinto che l'ultima giornata sarà ancora decisiva per chi vincerà il campionato e dobbiamo farci trovare noi magari proprio nel gruppo delle pretendenti anche l'ultima giornata, quindi continuiamo così. Grazie mille mister. Grazie mille.